È aperta la campagna di equity crowdfunding dell'Aquila 1927. È arrivato di nuovo il momento di costruire insieme il nostro domani. Adesso abbiamo la possibilità di portare l'Aquila dove non pensavamo potesse arrivare. Prendiamo in mano il nostro destino. Consegniamo all'Italia un nuovo modello di fare calcio. Da oggi anche tu vuoi diventare socio del club. Siamo tutti titolari. Con noi prendi quota anche tu. Diventa socio. Più siamo e più possiamo diventare grandi insieme. Noi siamo la squadra della gente. 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 Noi siamo la squadra dell'agente. Noi siamo la squadra dell'agente. Noi siamo la squadra dell'agente. Noi siamo la squadra.